Ben ritrovati con la Rassegna Stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Iniziamo subito con la lettura delle notizie nazionali di Matteo quando indagavamo sulla trattativa, il Quirinale voleva un contatto con la Procura, il possibile mediatore poteva essere Paramarca. C'è anche un episodio del recente passato politico-giudiziario, fino ad ora inedito, tra i fatti riferiti dal consigliere del CSM alla Commissione parlamentare antimafia. Il magistrato, al centro dell'inchiesta che imbarazza il mondo delle toghe, era considerato l'ambasciatore scelto dal Colle sotto la presidenza di Napolitano per interloquire con l'ufficio inquirente siciliano, trascinato in quei mesi davanti alla consulta per la vicenda dell'intercettazione di Mancino col capo dello Stato. CSM Mattarella dice gravi e vaste distorsioni nel consenso interno attribuzione di incarichi, più potere al Quirinale non c'è motivo, ha detto. Aveva parlato a più riprese di sconcerto, di riprovazione di un coacervo di manovre che ha minato l'autorevolezza della magistratura, di degenerazione del sistema correttizio e di inammissibile commistione fra politici e magistrati. Dopo oltre un anno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, torna sullo scandalo del CSM che ancora incrina l'immagine della magistratura. Autostrade, Atlanti attacca il governo in Unione Europea. Hanno detto danneggio agli investitori. Il Vice Ministro 5 Stelle dice se vogliono prenderci in giro hanno sbagliato il governo. Il Presidente Fabio Cerchiai e l'AD Carlo Bertazzo hanno chiesto a Bruxelles di prendere iniziative rapide e decisive e decise nei confronti del governo. Vuole forzarci a vendere a cassa depositi e prestiti, l'hanno detto, a un valore ridotto di mercato. E accusano sulle garanzie statali il desiderio delle autorità italiane di compromettere la redditività di indebolire la società e ridurre il valore a fini politici. Regeni Conte in commissione dopo vendita di armi all'Egitto dice senza giustizia i rapporti bilaterali con il carico non si svilupperanno appieno. Al Sisi si è detto disponibile ma attendiamo ancora un segno tangibile. Il Premier davanti all'organismo che indaga sull'uccisione del ricercatore Friulano di 28 anni fa. Nessuno deve dubitare che la verità sia la priorità ma i risultati si avranno con più dialogo non fermandolo. Ai genitori ho detto che se non ci sono ancora risultati possono imputarlo a me. Lega assente in dissenso con l'orario di convocazione. I colleghi invece hanno ringraziato il Premier per la velocità nell'aver accettato la candidatura. Contratti a termine PD e Italia Viva chiedono di prolungare la deroga al decreto dignità su rinnovi e proroghe. No della Catalfo. È evidente che in questa fase se non si eliminano temporaneamente i disincentivi si rischia di avere un impatto negativo sull'occupazione. Lo ha detto il Ministro Gualtieri. Lo abbiamo iniziato a fare con il decreto rilancio e credo che vada fatto con maggiore determinazione. Ma la Ministra del Lavoro, esponente del MoVimento 5 Stelle, che nel 2018 ha voluto quella norma con l'obiettivo di favorire la conversione in rapporti di lavoro stabili, chiude a ulteriore modifiche. Notizie da Napoli e dalla Campania. Un bimbo di 5 anni cade dalla finestra del bagno. Un pomeriggio di torriore nel napoletano. Ieri alle 15.30 un bambino di 5 anni è precipitato dalla finestra del bagno della sua abitazione sino al secondo piano rialzato di uno stabile di Corso Umberto in Marigliano. In casa con lui la madre che ha allertato il 118 dopo aver udito il tonfo e le grida dei vicini. Trasportata all'ospedale Santo Bono di Napoli in codice rosso. Il bambino è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che possano escludere lesioni interne. Il processo penale telematico Napoli capofila nasce il portale deposito atti penali. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli unitamente alla Camera Penale ha sottoscritto il protocollo di intesa attuativo del portale deposito atti penali di intesa con la Procura della Repubblica di Napoli. Il protocollo prevede la facoltà per gli avvocati di trasmettere in via telematica e con valore legale gli atti di nomina difensiva alle memorie e le istanze tramite il portale ministeriale attivata a Napoli come prima sede in Italia. Si tratta di un'innovazione adottata in via sperimentale che rappresenta il primo passo verso l'auspicata realizzazione del processo penale telematico e la smaterializzazione del cartaceo. Notizie da Treviso e dal Veneto. Festa di fine scuola in piazza Treviso. Conte senza mascherina tra selfie a bracci in piazza dei signori e in piazza Borsa il sindaco si è lasciato andare a incontri ravvicinati rigorosamente privi di protezione e anticontaggio mentre lo speaker appunto invitava a mantenere le distanze. Fraude milionaria a due trevigiani beccati dalla finanza avevano fatto finta di cedere le proprie quote societarie a due teste di legno nulla tenenti. Insomma ecco l'ospedale del futuro. A Treviso ci saranno 110 posti intensivi e più medici. L'uso di Marche si attrezza per fronteggiare nuove virosi e altre patologie chiesta alla stabilizzazione delle 84 figure sanitarie assunte a fine luglio. Montebelluna Porsche contro la Panda di servizio. Una postina gravissima. L'incidente all'incrocio tra Feltrina e via Cal Trevigiana. Ad avere la peggio la quarantenne addetta alla distribuzione della posta è stata trasportata in rianimazione a Treviso. Invietato bene alcolici fuori dai locali. Multe fino a 3.000 euro. Il comune di Treviso ha firmato l'ordinanza che inviete il consumo di bevande e alcolici fuori dagli spazi autorizzati dai locali. Le prescrizioni sono valide dalle ore 21 alle ore 3. E adesso passiamo alle notizie del Friuli Venezia Giugno ma prima diamo la parola alla nostra corrispondente da Udine e Sabina Ciccotti per gli ultimi aggiornamenti. Giovedì 18 giugno 2020. Mal tempo sulla regione Friuli Venezia Giulia. Una vera bomba d'acqua si è abbattuta nei comuni di Tricesimo e Qualso di Reane del Royale nel primo pomeriggio. Anche nel comune di Buia si è reso necessaria una modifica alla viabilità a causa delle strade allagate. È tutto, Sabrina Ciccotti da Udine per Radio Saioz. Bene e adesso passiamo alle altre notizie in corso. David Sassolo renderà omaggio alle vittime del Vaionti, il Presidente del Parlamento europeo. Il 10 ottobre si recherà in visita sui luoghi della tragedia. Il 10 ottobre 2020 il ricordo della tragedia del Vaionti avrà un valore particolare. A rendere omaggio alle 1917 vittime infatti ci sarà il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Lo rende noto l'europarlamentare friulano Marco Dreosto della Lega che a febbraio aveva sollecitato la presenza di un alto rappresentante dell'Unione europea. Da quel lontano 9 ottobre 1963 infatti nessun esponente del governo continentale aveva mai dimostrato solidarietà e vicinanza alle popolazioni di Erto e Casso e Longarone con la propria presenza. Il riconoscimento professionale ed economico. Gli infermieri scendono in piazza dopo l'emergenza. Il personale sanitario chiede l'adeguamento dei propri stipendi a quelli europei. C'è stata una manifestazione in piazza Unità Trieste ieri mattina a partire dalle 10 per un centinaio di infermieri del Nursing che da tutta la regione si sono dati appuntamento per far valere i propri diritti. I professionisti della sanità dopo essere stati chiamati eroi e aver combattuto in prima linea contro il Covid-19 chiedono il giusto riconoscimento professionale ed economico per il loro lavoro. Incidente il pomeriggio di ieri di fronte alla chiesa di Villa Vicentino un ragazzino di 14 anni è caduto mentre stava pedalando in sella la sua bici di fronte alla chiesa di Villa Vicentino appunto nel pomeriggio di ieri poco prima delle 16 ha battuto la testa con violenza e ha perso i sensi due volte. Ok al progetto della nuova palestra a Liguniana via libera della giunta comunale di San Vito al Tagliamento per il collegamento al palazzetto dello sport via libera della giunta comunale al progetto definitivo esecutivo dei lavori di realizzazione di una nuova palestra liguniana a San Vito al Tagliamento. L'opera pubblica inserita nel piano comunale 2020 che ammonta complessivamente a quasi 10 milioni di euro risponde ad una precisa esigenza del mondo sportivo, in particolare un'associazione legata al settore ginico che conta un elevato numero di praticanti ma che deve allenarsi in uno spazio di dimensioni non idoneo nel centro storico di San Vito. Nonostante le difficoltà logistiche i risultati sportivi sono notevoli tanto da avere indotto l'amministrazione comunale ad intraprendere le procedure per la costruzione di uno spazio idoneo e dedicato. Strade sicure e avvicendamento al raccorpamento Umbria Marche si è concluso il mandato del 132esimo reggimento artiglieria terrestre Ariete di Maniago. Si è concluso il mandato, come si dicevamo, appunto per il 132esimo reggimento artiglieria terrestre Ariete di Maniago che al comando del colonnello Mario Feneziani ha guidato il raccorpamento Umbria Marche durante il primo semestre del 2020. Ieri ha avuto luogo il passaggio di consegne con il reggimento genio ferroviero e ferrovieri di Castelmaggiore al comando del colonnello Cesare Canicchio. Bene cari amici con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa e studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione. Grazie a tutti i nostri amici.